Vittorio a Roma! Aspetto questa partita dal triplice fischio di Juventus Inter. Credetemi, questa per me è la partita della verità, la partita delle certezze o dei dubbi. È la partita! È Inter-Verona! Ah, pronostico? Ma che cavolo devo pronosticare? Non ce l'azzecco mezzo, mezzo non l'azzecco. Proprio per questo motivo, proprio a maggior ragione, io vi dico di nuovo, uno a uno! Sì, l'ho sparata grossa! Spero di averla sparata grossa. Andiamo avanti, godiamoci questa partita. Prima di partire, come al solito, vi voglio invitare a lasciare una like, e iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. Voi venite dal futuro e sapete già come sarà andata. Io invece mi devo sorpire 95 partite, spero, spomeggianti. per rivedere gli highlights e per aggiornarvi sulla Serie A, ma non solo, sulla vostra squadra del cuore. OneFootball, app gratuita, che vi permette di rimanere attivi e aggiornati sul mondo del calcio. H24, quindi link in descrizione, ho qui il code, ma mi raccomando, a prova di smartphone, scaricatela. Buona live reaction! Speriamo che sia buona! C'è tensione, c'è tensione, c'è vibrazione! Vai, vai, Dima! Ma non c'è la miseria, whisky! Che bravo whisky! Bravo whisky! Mamma mia, dai, 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 ci sono, ci siamo, ci siamo, ci siamo, spazi, spazi, voglia, grinta, dai! Morto, morto, molto, molto, molto bene! Buona! Ma che... Mamma che parata! Morta! Mamma quando siamo? Siamo in tanti, eh? Siamo in tanti, Polo! Sì! Nicolo Parella! Nicolo Parella! Nicolo Parella! Nicolo Parella! Buona! Sì! Sono pure spottacchiato qua! Sì! Bella, 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 bella! Nicolo Parella! Buona! Alla grande, ragazzi! Alla grande, alla grande, alla grande, alla grande, alla grande! Continuiamo così! Continuiamo così! Non mollare! No, 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 adesso! Non mollare mai! Buona, 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 buona Geko! Buona Parella! Buona! Ci siamo, ragazzi! Dai, Correa! Dai, Correa! Mannaggia, Santa Monica! Chiudiamo, chiudiamo! Chiudi, chiudi! Facciamo una togola, altro che chiudi! Peccato, ma che partita! Sì, 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 ci siamo, eh! Ci siamo, ci siamo! Col vento in poppa! Col vento in poppa! Bravo, Geko! Bello! Mamma mia! Ma oggi, mamma, oggi! Ma che? Ma che, ragazzi? Ma mamma mia! Dai, dai, dai! Ma... Prova di uscire sul primo volo per esizio... Ma... Cioè... Geko, sono due! Ma oggi mi fate divertire, oggi! Mi fate divertire, oggi! Che divertimento! si 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 buona 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 denuncio mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia attenzione attenzione samir samir bravo samir è andata a chiudere samirone hai capito samirone provvidenziale samir c'è gloria anche per samir oggi forza tucco forza tucco vamo 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 così 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 andiamo bene che lavoro che lavoro edin che lavoro edin bravo toffi salta l'uomo la sbatacchia la sbatacchiata bravissimo brozo è molto esagerato ma che coccodrillo che sei ma che coccodrillo occhio è occhio però è occhio però è occhio però è occhio però bravissimi bravissimi aspetta aspetta occhio 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 questi sono vivi questi sono vivi occhio però è occhio perché sono vivi mamma mia che portata che portata mamma d'ambrosio che partita d'ambrosio ma che partita d'ambrosio buona buona coccodrillo non è te l'ambrosio mamma mia te lo meritavi ragazzo mio te lo meritavi te lo meritavi te lo meritavi te lo meritavi una partita eccezionale eccezionale mamma mia mamma mia se lo meritava sto ragazzo se lo meritava sto ragazzo faccio il gol bravo 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 dai dai mamma mia mamma mia caspita oh sveglia 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 attivi e attivi fino alla fine perché la partita non è finita eh una maniera tra screener e d'ambrosio tra screener e d'ambrosio non so chi veramente due bestie il messaggio che ha dato un primo tempo domini Grazie a tutti